Se vado Agostino è d'accordo, io vi ci porto. E l'aria è buona. Come si chiama sto posto? San Giovanni Rotondo. Ma io non ce lo faccio più. Dove sta sto benedetto posto? Siamo quasi arrivati. Tre giornate camminiamo. Ecco. Padre, che vi siete incantato, padre. Non me ne andrò più via da qui. Non me ne andrò più via. Cento lire, Petro Pio! Cento lire! Compadre Petro Pio! Cento lire! Cento lire, Petro Pio! Cento lire! Cento lire! Che voi ci sono tornato? Padre Pio Origena! Padre Pio Origena! Ho sentito quanto fu? cento lire. mi è andato pure bene a Gesù l'hanno venduto a me me compra